intendono che gli ultimi led lasciano le gabbie di partenza così è in questo momento si aprono le gabbie partiti i cavalli del premio Circo Massimo edizione duemila ventitré Frozen Day come da copione si porta subito davanti cadenzare andatura a piacimento con Unique Diamond che si sistema in seconda posizione in terza c'è Bridge Jazzarat poi Prince Appeal favorito in questo momento Tempesti è in quinta posizione a precedere Frozen Juke poi Flex Up ed Emperor of Love gruppo sfilacciato dal primo all'ultimo circa 15 lunghezze con Frozen Day sempre deputato a fare da frontrunner Unique Diamond che mette pressione rimanendo stabile in seconda in terza c'è Bridge Jazzarat che lascia ad un paio di lunghezze Prince Appeal a stesso intervallo troviamo Tempesti e poi un gruppo raccolto formato da Emperor of Love Frozen Juke e Flex Up siamo già velocemente a metà curva con Frozen Day che sta imbastendo il proprio ritmo con un bel passo Unique Diamond sempre stabile in seconda posizione così come Bridge Jazzarat sempre stabile in terza poi Prince Appeal Tempesti Emperor of Love Flex Up e Frozen Juke a chiudere il gruppo ancora davanti Frozen Day che sceglie di galoppare su una fascia centrale sempre Unique Diamond a mettere pressione in seconda posizione Bridge Jazzarat che prova dall'interno dal centro la pista si avvicinano Prince Appeal Tempesti Flex Up poi tutti gli altri intersezione delle piste superata abbondantemente con la bella sfrizionata data in avanti da parte da Frozen Day si avvicina in maniera minacciosa Tempesti che adesso deve recuperare qualche lunghezza poi Bridge Jazzarat Prince Appeal Flex Up tutti sotto frusta al paletto dei 200 Frozen Day è braccato da Tempesti che con due tempi di galoppo passa in vantaggio a lunga deciso verso la meta Tempesti che regola al secondo posto Frozen Day e poi per il terzo Prince Appeal Tempesti doveva essere e Tempesti è stato